Noi avevamo utilizzato il 28 febbraio una mail per la disponibilità all'accoglienza. Questa disponibilità all'accoglienza le famiglie in qualche modo l'hanno interpretata sia come accoglienza per bambini soli, quindi non accompagnati, sia per mini nuclei perché poi nei fatti chi sta arrivando sono delle mamme con dei bambini. C'è un grande movimento da parte di associazioni che nel tempo si sono occupate di adozioni e affidamenti a tempo di bambini ucraini, giusto perché parliamo di questo tema così complesso e difficile, ma ad oggi non ci sono state assolutamente ipotizzate i arrivi di bambini da soli. La prossima settimana ci sarà un incontro informativo per le coppie che vogliono prendere l'affidamento dei minori dal nostro ufficio che è il servizio affidi che fa dei percorsi di formazione per le famiglie affidatarie. Quindi qualora le famiglie vogliono approcciarsi a questo istituto dell'affidamento familiare, si possono dare questa disponibilità e sostenere anche i bambini che sono in attesa di affidamento familiare. Quindi noi non facciamo una distinzione, ovviamente in questo momento la generosità e la disponibilità delle famiglie si è manifestata all'accoglienza dei bambini ucraini, ma possiamo immaginare che questa disponibilità possa essere anche rivolta ad altri ragazzi di tutte le nazioni, perché quello che abbiamo sostenuto sempre come città è che è una città che accoglie. Quello che stiamo provando a fare come istituzioni è stare molto attenti che non arrivino bambini esposti a condizioni poco chiare e quindi c'è uno stretto controllo e osservazione di questi movimenti, ma in tutta Italia. Alle famiglie dico valutate la vostra disponibilità, mossi anche in questo momento dallo spirito di solidarietà che ci ha coinvolto tutti perché la guerra non la vogliamo nessuno e quindi chiedo anche a queste famiglie se vogliono ripensarsi e pensare anche con questa occasione di verificare la propria disponibilità ad accogliere bambini senza una targa di nazionalità. Grazie Grazie